Premi il tasto Home sul telecomando SkyQ e muoviti verso il basso all'interno della Home fino alla sezione Help. Premi poi l'indicatore di direzione destro per selezionarla. Oppure premi il tasto App TV sul tuo telecomando SkyQ e seleziona l'icona Help. Mentre stai guardando un programma, puoi anche premere il tasto Punto di domanda e muoverti verso destra per entrare velocemente nella sezione Help.